Il treno regionale 16191 di Trinitaria, proveniente da Vicenza e di Vento a Treviso Centrale, delle ore 17 e 39, è in arrivo al binario 2, invece che al binario 4. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, per me in tutte le stazioni. Attenzione, il treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Grazie.